Donne oltre gli schemi, ma anche oltre gli schermi, naturalmente quelli del cinema. La prima edizione dell'Ecofilma Fest propone uno sguardo tutto al femminile sulla cultura e sulla società attraverso il filtro della settima arte. Ad animare l'evento, numerosi personaggi di spicco del cinema e dello spettacolo, della musica, del giornalismo e delle istituzioni. Quattro giornate per scoprire storie e modelli di donne che superano gli stereotipi. È stato bello vedere il concerto delle istituzioni, degli imprenditori, dei sostenitori, dei volontari che sono la vera anima di questo festival, radicato sul territorio, ma con uno sguardo al mondo intero, con uno sguardo al paese e con un'attenzione particolare alle donne. Abbiamo cominciato, questo territorio ha bisogno di ripartire, è stato colpito duramente l'Eco e il suo circondario dall'emergenza Covid, ma la voglia della gente di stare insieme, di confrontarsi, di immaginare il futuro è la vera chiave della ripartenza, prima ancora dell'economia. Ogni sera, fino a domenica, verrà presentato e proiettato un film con la partecipazione di registe e di attrici, prima pellicola in programma, Piccole donne, di Greta Gerwig. Io vedrò racconti, giù. E tu, tu dovresti fare l'attrice e passare la vita sulle scene. E tu, tu dovresti fare l'attrice e passare la vita sulle scene.